Immaginate per un attimo di aprire gli occhi e trovarvi immersi in un fantastico mondo. Immaginate in questo attimo che il vostro sogno diventi realtà e quello che i vostri occhi stanno ammirando sia più vicino di quanto pensiate. A voi che siete viaggiatori o sognatori, benvenuti nel Detto del Poco. Grazie a tutti. 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 Un luogo affascinante, un viaggio straordinario, con mille mete e mille destinazioni sulla riviera adriatica dei sette liti di Comacchio. Per una vacanza facile da ricordare e difficile da dimenticare.